Musica Incidente sul lavoro alla Dalmine di Potenza, sarà eseguita nel pomeriggio l'autopsia sul corpo di Carmine Picerni. Primi nomi sul registro degli indagati, domani intanto sciopero di otto ore indetto da CGL Cisle Will. Intesa raggiunta per il trattamento e l'esportazione del petrolio proveniente dal giacimento lucano di Tempa Rossa. Il progetto fu oggetto di contestazioni da parte degli ambientalisti e riguarda da vicino anche la Basilicata. Divieto di uso d'acqua potabile a Policore Nova Siri, le analisi eseguite da Acquedotto Lucano stanno confermando la buona qualità dell'acqua erogata. Riaperto il molo nord del porto di Maratea, le attività, lo ricorderete, erano state sospese un mese fa a causa di una mareggiata. Mentre Potenza si avvia a centrare l'obiettivo della Serie C, Carlos Franza si gode la vittoria del pallone d'oro di Serie D. Il centroavanti brasiliano del Potenza con il 26,83% dei voti si è piazzato primo davanti a Sicurella della San Cataldese e Chedira della San Giustese. Buon pomeriggio e ben trovati in studio per l'edizione del giovedì della nuova TG. In apertura torniamo a parlare dell'incidente sul lavoro alla Dalmine di Potenza, a seguito del quale martedì sera ha perso la vita l'operaio Carmine Picerni. Nel primo pomeriggio sarà eseguita l'autopsia sul corpo del 39enne e intanto nella giornata di domani CGL e Cisleguilla hanno indetto uno sciopero di otto ore, invitando tutti gli operai a prendere parte a Sittim, programmato per le ore 10 sotto la prefettura di Potenza. E allora andiamo a sentire tutti i dettagli con Fabrizio Di Vito. Sarà eseguita nel pomeriggio l'autopsia sul corpo di Carmine Picerni, l'operaio vittima di un incidente sul lavoro alla Dalmine di Potenza. L'esame autoptico è un passaggio necessario per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e risalire ad eventuali responsabilità. L'incidente alla Dalmine di Potenza fa seguito al recentissimo infortunio mortale accaduto alla GECO di Tito in cui ha perso la vita un altro giovanissimo operaio, Antonio Cagianese. E allo sciopero di otto ore, proclamato da CGL e Cisleguilla per la giornata di domani, i sindacati confederali hanno convocato anche un presidio a Piazza Mario Pagano sotto la prefettura alle 10, invitando i lavoratori alla massima partecipazione. La triplice, in una nota, dice di confidare nella magistratura affinché svolga nel più breve tempo il suo compito per accertare eventuali responsabilità e omissioni dell'azienda in cui non si rispettano norme e procedure e chiedono al contempo un incontro urgente in prefettura con tutte le istituzioni preposte, a partire dalla regione basilicata, per rafforzare la sorveglianza e i servizi ispettivi. Ci rifiutiamo di abituarci al fatto che si vada al lavoro e si possa perdere la vita, le istituzioni facciano subito la loro parte, scrivono in una nota le tre sigle sindacali. Sull'incidente la Procura della Repubblica di Potenza ha aperto un'inchiesta affidata al PM Ersilio Capone. Tre reati ipotizzati, anche quello di omicidio colposo. Interrogati dalla polizia che sta eseguendo le indagini, gli operai presenti in fabbrica al momento dell'incidente hanno raccontato che Carmine Picerni stava effettuando una manovra da solo per eseguire la quale invece è necessario l'impiego di almeno due lavoratori. Carmine Picerni è stato colpito alla testa da una bobina di acciaio del peso di 20 tonnellate, inutile la corsa al San Carlo. Il 39enne è arrivato in ospedale, privo di vita. Il GIP del Tribunale di Potenza ha convalidato il sequestro preventivo delle tre vasche di raccolta delle acque di falda e della relativa condotta di scarico a mare dell'impianto ITREC di Rotondella, gestito dalla SOGIN e dell'adiacente impianto EX-MAGNOX, disposto in via d'urgenza nei giorni scorsi dalla Procura di Potenza, per evitare la prosecuzione dello sversamento nel marionio di acque contaminate. Sono cinque le persone iscritte nel registro degli indagati, si tratta dei referenti dei procedimenti di controllo e di trattamento delle acque e di un funzionario della provincia di Matera, mentre i reati ipotizzati dalla Procura sono inquinamento ambientale, falsità ideologica, smaltimento e traffico illecito di rifiuti. Le acque sversate in mare contenevano concentrazioni elevate di cromo esavalente e di tricloroetilene, sostanze chimiche utilizzate per il trattamento delle barre di uranio presenti nel sito nucleare. Intesa raggiunta per il trattamento e l'esportazione del petrolio proveniente dal giacimento lucano di Tempa Rossa, il progetto fu oggetto di contestazioni da parte degli ambientalisti e riguarda da vicino anche la Basilicata. Ce ne parla Michelangelo Russo. Dopo il via libera dato il mese scorso da Palazzo Chigi ai lavori nella raffineria Eni di Taranto per rendere possibile la ricezione, il trattamento e l'esportazione del greggio proveniente dal giacimento petrolifero lucano di Tempa Rossa, il comune di Taranto, la joint venture Gorgoglione di Tempa Rossa e il partner logistico Eni hanno elaborato un protocollo di intesa che include svariate misure di sostegno ai progetti della comunità ionica, lo annuncia il comune di Taranto. Un tema che interessa da vicino anche la Basilicata, il cui greggio proviene dal giacimento di Tempa Rossa. Il progetto, avversato dagli ambientalisti, è inserito nelle opere strategiche previste nel comparto energetico nel sud Italia. Fu approvato dal Cipe per un investimento di 1,6 miliardi di euro, di cui 1,3 in Basilicata e 300 milioni in Puglia. I lavori per la parte tarantina consistono in due serbatoi di stoccaggio da 180 mila metri cubi e l'estensione di 515 metri del pontile petroli della raffineria. Il greggio verrà estratto e trattato a regime 50 mila barili al giorno nel giacimento di Tempa Rossa e poi inviato alla raffineria di Taranto mediante il già esistente oleodotto Valdagri-Taranto per lo stoccaggio e la spedizione via mare attraverso le navi petroliere. Di vieto d'uso di acqua potabile a Policoro e Novasiri, le analisi eseguite da Acquedotto Lucano sulla rete idrica alimentata dal potabilizzatore di Montalbano Ionico a servizio anche del territorio di Policoro e di quello di Novasiri Marina stanno confermando la buona qualità dell'acqua erogata e nessun superamento dei limiti di trialometani. A renderlo noto è Acquedotto Lucano, precisando che le ordinanze dei sindaci dei due comuni interessati sono state emesse a scopo cautelativo e relativamente ai soli usi alimentari a seguito degli esiti di un campionamento effettuato dall'ARPAB nei giorni scorsi sulla base del quale risulterebbe il superamento della soglia di trialometani, 30 microgrammi per litro. Si tratterebbe in sostanza della conseguenza del normale trattamento di clorazione dell'acqua. I trialometani infatti si formano nell'acqua destinata al consumo umano soprattutto come risultato della reazione del cloro con la materia organica presente naturalmente nelle acque grezze. E in attesa di nuovi riscontri Acquedotto Lucano ha disposto il servizio sostitutivo a mezzo autobotti in entrambi i comuni, ovvero a Novasiri in via della Libertà, Anfiteatro Totò e via Magna Grecia e a Policoro in piazza Montesano, piazza del municipio, via Vittorio Veneto, via Siris, oltre a una mobile a servizio delle zone rurali. Ancora la cronaca giudiziaria. Da due a quattro anni sono le richieste di pena nei confronti delle due maestre accusate di maltrattamenti in una scuola dell'infanzia ad Atella. Per Donata Parisi la richiesta è di due anni di reclusione e per Nicoletta Bove, che ricopre la posizione più grave, è di quattro anni e otto mesi, più cinque di interdizione dei pubblici uffici. Le due donne erano state poste domiciliari il 23 marzo del 2015 e a denunciare i fatti erano stati alcuni genitori preoccupati dei cambiamenti nel comportamento dei loro bambini. Ora la prossima udienza si terrà il 23 maggio. E andiamo adesso in pubblicità fra poco con le altre notizie. design e restyling di interni di Vito Coviello pitturazioni, carte da parati, controsoffittature, pareti acustiche, coibentazioni, rivestimenti a cappotto, guaine bituminose. design e restyling di interni di Vito Coviello a Lago Pesola e Potenza per informazioni 340-63-70-636-vitocoviello-hotmail.it di traverso torna con un nuovo progetto che porterà la realtà lucana tutta all'interno degli studi della nuova tv. Una nuova sfida in cui non mancherà l'analisi, l'approfondimento e l'inchiesta giornalistica con un impatto immediato grazie al confronto con gli ospiti che interverranno. Caffè di traverso dal martedì al venerdì alle 10.30 e alle 15.30 negli studi della nuova tv. E naturalmente non mancherà il caffè. Riprendiamo ancora con la cronaca con le accuse di detenzione abusiva di armi clandestine relativo a munizionamento a Sanfele. I carabinieri hanno arrestato e posto ai domiciliari un uomo di 34 anni. Le armi sono state scoperte durante una perquisizione nell'abitazione dell'uomo disposta dopo una denuncia presentata dalla moglie per minacce e maltrattamenti mediante l'uso di armi. A Vietre di Potenza invece un 35enne è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo che ora è domiciliare è stato trovato in possesso di circa 18 grammi di hashish e 205 euro in contanti, provento, secondo gli investigatori, dell'attività di spaccio. Trovato in possesso di 165 pacchetti di sigarette estere di varie marche di contrabbando sprovvisti del contrassegno del monopolio di Stato per un totale di 3 kg di tabacco di qualità non controllata. Nel metapontino un cittadino albanese è stato così denunciato dalla Guardia di Finanza. Nei confronti dell'uomo i finanzieri della brigata di metaponto di Bernalda hanno inoltre elevato sanzioni amministrative per circa 17 mila euro e i tabacchi sono stati sequestrati. Cambiamo pagina, riapre il mollo nord del porto di Maratea. Le attività, come ricorderete, erano state sospese circa un mese fa a causa di una mareggiata. Sentiamo. Buone notizie per Maratea e il suo porto. A seguito del sopralluogo tecnico congiunto con tecnici e funzionari del provveditorato opere pubbliche della regione basilicata, dell'autorità di Bacino e dell'ufficio tecnico comunale, oltre al sindaco, al comandante della capitaneria di Porto e ai vigili del fuoco, si è deciso di poter riattivare tutte le attività esercitate sul molo nord del porto che erano state sospese dopo la mareggiata dello scorso 21 marzo. Sono previste delle prescrizioni che consentono però la fruizione totale del molo interdetto, ad esclusione del transito veicolare e pedonale per i non addetti ai lavori. Nel frattempo il comune di Maratea si attiverà per riparare l'allargamento della fessura longitudinale creatasi tra la banchina e il molo. A partire dal giorno della mareggiata, infatti, il comandante della guardia costiera dell'ufficio circondariale di Maratea aveva emesso un provvedimento di interdizione pedonale, veicolare e di ormeggio per l'infrastruttura che pure ospita l'impianto di distribuzione di carburante, il punto di ormeggio dei pescherecci di tutto il circondario e delle imbarcazioni in transito, lo scalo di alaggio e varo con relativa area di cantiere per le imbarcazioni fino a 80 tonnellate e il punto di ormeggio di tutti i natanti adibiti alla locazione e a noleggio per il diporto. dalla zona play-off, inoltre inibito per sei mesi per responsabilità propria anche l'amministratore delegato del Matera, Antonio Taccogna. Passiamo alla serie D, lavori nel più breve tempo possibile, nel cronoprogramma stilato e sovraluogo della Lega di Serie C già domani. Sugli interventi di adeguamento dello stadio Viviani di Potenza interviene intanto l'assessore allo sport Enrico per fare chiarezza, ma ce ne parla Celestino Benedetto. Mai e poi mai la disponibilità dello stadio Viviani sarà negata al Potenza Calcio. L'amministrazione comunale è al fianco del Rosso Blu e sta lavorando alacremente per consegnare alla società e alla città uno stadio perfettamente in linea con le normative regolamentari per disputare il campionato di Serie C. Le polemiche innescate in questi giorni sui lavori di adeguamento dello stadio Potentino, sulla durata degli interventi richiesti per affrontare il campionato professionistico e sul bando per l'affidamento, non turbano l'amministrazione comunale. A fare chiarezza spiegando punto per punto il cronoprogramma dei lavori, che costeranno 1.300.000 euro oltre IVA, è l'assessore allo sport Valerio Enrico. Da giorni gli uffici e la costituita task force stanno lavorando alacremente. Al primo punto ci sono i lavori di adeguamento della struttura alle prescrizioni fissate dal regolamento per il campionato di Lega Pro. Gli uffici, spiega Enrico, hanno predisposto gli atti e nella giornata di venerdì un delegato della Lega effettuerà un sopralluogo di verifica. Il secondo tema riguarda i lavori di adeguamento ai fini delle prescrizioni in materia di sicurezza ed ordine pubblico. La Giunta Comunale, solo pochi giorni fa, ha approvato il bilancio riequilibrato. Adesso si attende l'approvazione della delibera da parte del Consiglio Comunale. Solo allora gli interventi potranno essere finanziati. È evidente che i lavori non potranno iniziare prima della fine del campionato e dovranno essere realizzati in tempi celeri, adottando tutte le procedure più veloci consentite dalla legge, in modo da aggiungere preparati alla disputa del prossimo campionato. Per quanto riguarda invece la terza questione, quella relativa al bando per l'affidamento in concessione dello stadio, entro la settimana prossima, spiega ancora l'assessore Enrico, il bando sarà pubblicato. Una cosa però è il bando, altra cosa è la disponibilità del campo per le gare di Lega Pro. Per l'iscrizione della squadra al prossimo campionato è necessaria la disponibilità del campo, disponibilità che il Comune, quale ente proprietario, ha già assicurato. E mentre il Potenza si avvia a centrare l'obiettivo della Serie C, Carlos Franza si gode la vittoria del pallone d'oro di Serie D, il centravanti brasiliano del Potenza, con il 26,83% dei voti si è infatti piazzato davanti a Sicurella della San Cataldese e che dira della San Giustese. Un trionfo per il bomber rosso-blu che in questa stagione ha già messo a segno 24 reti in 27 partite. E allora andiamo a vedere la compilation dei suoi gol più belli. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.